Sono arrivati doni e sorrisi sabato scorso per la seconda edizione di Sorridiamo per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. L'evento è il risultato della collaborazione dell'istituto alberghiero Luigi Sturzo di Gela diretto da Grazio Di Bartolo e ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo Sezione di Gela, presieduta da Giacomo Giurato in collaborazione con il reparto di pediatria dell'ospedale diretto dal dottore Rosario Caci. Sono stati consegnati gadget e doni preparati proprio dai ragazzi dell'accoglienza dell'istituto alberghiero coordinati dal professore Emiliano Sigona. La finalità è quella di promuovere la donazione del midollo osseo. ADMO e l'istituto alberghiero di Gela hanno voluto regalare per il secondo anno consecutivo questo momento straordinario dei bambini ricoverati in pediatria. Un momento importante perché stacchiamo con la vita di tutti i giorni dei bambini ricoverati e gli regaliamo un sorriso. In un momento in cui la città sta attraversando un momento così particolarmente critico, regalare un sorriso, un abbraccio a questi bambini diventa un momento importante. E noi oggi l'abbiamo fatto e siamo orgogliosi e felici di averlo fatto assieme anche al Movimento Giovanile San Francesco che abbiamo trovato in reparto. E quindi è stato un momento di condivisione straordinaria. Abbiamo trovato la collaborazione dell'ASP, che ringrazio personalmente, dei medici, della caposala e soprattutto dei genitori, dei bambini che hanno veramente condiviso con noi questo bel momento. Abbiamo regalato un sorriso, abbiamo dato dei pensierini, abbiamo anche regalato qualche caramella che ovviamente è stata vietata dai medici, ma era un segno importante. È stato regalato anche un bambino Gesù, offerto dal Movimento Giovanile San Francesco. E il messaggio che vogliamo lanciare è questo, doniamo un sorriso, doniamo degli abbracci perché daremo un senso alla nostra vita. Penso che l'esperienza più bella sia dare un sorriso ai bambini. E' un'altra cosa, i bambini molte volte non sanno che cosa significa allegria se non gliela porti tu dentro. Quindi tu gli devi dare un po' del tuo amore per fargli sentire qualcosa. Per noi è stata la prima esperienza, siamo stati accolti dai bambini in modo sorprendente e anche noi abbiamo portato a loro un pensierino regalando il bambino Gesù per augurargli un buon Natale. L'essenziale non è ciò che facciamo, ma come lo facciamo. Ogni giorno col cuore, la gioia, la passione, la competenza, l'entusiasmo, la condivisione, l'unione, l'allegria, la discrezione nella possibilità che sulle labbra di un bambino affiori un sorriso. Questo è il profondo messaggio della giornata.